Allora, signori, abbiamo un messaggio con rosa, anzi due messaggi con due rosa, alla 24 e alla 25, vai! Complimenti veramente ragazzi, abbiamo degli uomini super romanti, si può vedere? Questa è la 24, è la 25, vai, perfetto, questi sono i relativi messaggi, come ti chiamate, come ti chiami tu? Esther, come la Pasqua, benissimo, sta per arrivare, da dove vieni Esther? Al Perù! Al Perù! Wow! Ecco la tua tua tua, quelle che vengono da Bologna, da Modena e da Reggio, sei venuto a posta per me? Sì, sì. Ah, è venuto a posta da lì, ma ha preso l'aeroporto di Liva, perfetto, complimenti, tecchi e veri macchie, come vuoi l'uomo ideale? Carino e affettuoso, ragazzi, eh? Brava, brava! Gli italiani lo sono, bella risposta! Qui invece di cammini, al Mira, da dove vieni? La Marese, cosa fai di perdere la vita? Ok, come vuoi essere l'uomo? Cosa fa? Un po' sincero, sincero. Un uomo un po' sincero. Ha detto un po', un po', un po'. Un po', un po'. Voglio una foto con queste bellissime donne. Ragazzi, prendete la rosa in mano. Perché gli uomini tipicamente li sussidiano. Ben sorriso? Vai! Sì, sì. No, dai. Vai! Ok. Grazie, grazie. Non tocca andare a vedere. Beh, scusate, no, aspetta, vai là anche tu. Eh, vai là anche tu, mi sembra giusto. E lui è l'artefice. E lui è l'uomo, l'uomo, eh? E lui è l'uomo della serata. Vai, vai, vai. Eh, quando mai? Cosa si voleva, eh? Bravo, 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 bravo. Guardiamola, Roby. Roby? Roby? Fai un po' tu. Allora, andiamo avanti ancora. Ne abbiamo un'altra, ancora con la rosa, ragazzi. Numero 19. Chi è la 19, ragazzi? 1, 9. Donna, 19. Dove? Ah, eccola qua. È l'orologiano sviffera. Riceve un altro messaggio con rosa. Tu ti aspettavi una cosa del genere? Pensavi, eh? Eh, lo so. Tutta autostima. Perfetto. Allora, ragazzi, ragazzi. Avanti ancora. Numero... Numero 118. È un uomo, ragazzi. 118. 118, ragazzi. Perché? Perché nei messaggi dove è? Dove è il 118? 118? È lui? È lui? No. È qua. Lo provate. Lo vedi, lo vedi. 118. Sei tu? E vai. Sei un grande. Ciao, come li chiedi? questo è. E poi... Non nemmeno. Non è. Non so... Ma non... Non so che... Non... Ah, si... Non so che... Ah, beccata! Ma io non lavo tovaglie però. La nostra magia è una scena. È un po' troppo, eh? È un po' troppo, eh? È un po' troppo, eh? Non, una garanccia, però. È un po' troppo, eh? Allora, ragazzi, abbiamo mangiato il risotto, molto poco. Ci muoviamo un po', ragazzi. È un po' troppo, eh? È un po' troppo, eh? sì 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 forfamente in movimento un pochino vai 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 o o no ce ne sono ancora ma ne ho ancora non vai a guardare la giurata dopo dopo il video lo facciamo le grosse Grazie a tutti Che pubblico eccezionale, pubblico incredibile State lì, state lì che ne facciamo un'altra Vai, vai, vai Siamo arrivati a Rosa Grazie a tutti 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 Grazie a tutti